L'ottimo consenso di preferenze riportato dal sindaco di Civitella Casanova Marco D'Andrea nelle passate elezioni regionali, anche se non sufficienti per consentirli un posto in regione Abruzzo, è sicuramente riprova di un ottimo lavoro che sta svolgendo nel suo comune. Buone notizie arrivano dal comune Pedemontano-Vestino per i fedeli e per gli amanti del turismo dei piccoli centri d'Abruzzo. Infatti, dopo dieci anni di ritardi burocratici, di incontri, lettere e mancanze, ecco che grazie ad un lavoro di mediazione compiuto dall'ufficio tecnico del comune di Civitella Casanova, si sono poste le basi per rimettere sul giusto binario il restauro della chiesa Beata Vergine Maria delle Grazie. Infatti, il comune guidato dal sindaco D'Andrea, soggetto terzo ed estraneo alla ricostruzione, ha messo a disposizione della Curia, ente proprietario e del MIBAC d'Abruzzo, ente deputato alla tutela del patrimonio artistico, i propri tecnici a titolo gratuito, sottoscrivendo una convenzione con i due enti per cercare di abbreviare i termini e redigere il progetto di consolidamento e il restauro della chiesa, visto che dopo dieci anni non esiste e non è mai esistito nessun progetto di restauro depositato in nessun ufficio della Curia o della Regione. Un primo incontro di lavoro si è già svolto alla presenza del sindaco Marco D'Andrea e del parroco Don Windel Pastorizia e del team tecnico guidato dall'architetto Massimo Macrini. L'amministrazione comunale, commenta il sindaco, tiene particolarmente a ringraziare tutti i tecnici che hanno accettato di far parte di questa tutt'altro che facile impresa, facendosi carico di un onere molto impegnativo che richiederà notevole sforzo, tempo e dedizione, ben oltre gli impegni lavorativi di ciascuno. Ma Civitela Casanova non è solo ricostruzione post-sismica, perché nei giorni scorsi è stata attivata la prima centrale termica del polo scolastico di via Marconi, il primo nella provincia di Pescara realizzata completamente a costo zero grazie al programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse. Il finanziamento ricevuto di pari importo a 250.000 euro a fondo perduto ha permesso infatti di costruire ed acquistare tutto quanto necessario per la piena funzionalità della stessa. Da questo momento quindi il polo scolastico di via Marconi è riscaldato dal nuovo impianto a biomassa che consente una riduzione dei costi ed una riduzione delle emissioni di gas serra nell'ambiente.